Sette anni fa Monica Militi aveva denunciato il marito per maltrattamenti, poi però aveva ritrattato le accuse, elementi ora al vaglio degli investigatori, che stanno provando a tratteggiare il contesto nel quale è maturato l'omicidio di Ciro Palmieri, il panettiere 43enne, ucciso e fatto a pezzi a Giffoni Vallepiana. Le immagini delle telecamere hanno inchiodato la moglie Monica, il figlio ventenne Massimiliano, ed un altro figlio di 15 anni, proprio il più piccolo degli indagati. È stato già ascoltato dal procuratore, presso il tribunale per i minori. Si attende adesso la fissazione dell'interrogatorio dinanzi al GIP, sia per lui che per la madre del fratello. In queste ore intanto è rientrato a Salerno anche il primogenito dei fratelli Palmieri, che lavora al nord. È stato affidato ai servizi sociali invece il fratellino di 11 anni, che ha assistito all'agghiacciante omicidio avvenuto nel pomeriggio del 29 luglio nella casa di Via Marano. La sera seguente Monica Milite si era recata dai carabinieri per denunciare la scomparsa del marito, ma i militari hanno nutrito dei sospetti, anche in considerazione di una fasciatura che la donna aveva ad una mano. Le immagini delle telecamere poi hanno mostrato la ghiacciante verità. Il cadavere di Palmieri è stato recuperato in un dirupo sulla statale, che collega Giffoni con Serino. Le operazioni si sono rivelate particolarmente complesse, come spiega Dotto Ciannelli, il presidente regionale del soccorso alpino. Con tecniche di corda siamo scesi, abbiamo provveduto ad imbarellare la salma e quindi a trasportarla sulla strada.